Eccomi a chiacchierare sul golfino di Camilda. Allora, chi ne che n'ha ne spenda sei disaspesa. E' un proverbio che mi è andato fuori moda, perché all'epoca non si usava a fare i puffi, queste convenzioni rateizzabili. Una volta si comprava se ne avevi. E riguardo a chi ne che n'ha ne spenda, alludeva all'intelligenza. Chi non ne ha, non ne può impiegare. E io evidentemente ho due le alcune, ma mica da poco. Allora, avevo con Camilla messo a fuoco questo modellino. Mi piace, mi piace tra l'altro anche il collo. Ma tante persone mi stanno ponendo la questione, ma il collo è quello che farai? Sì, boh, non lo so, vedrò. Anche perché io sto utilizzando un filato che è diverso da quello utilizzato per questo golf. A Camilla piacciono molto le lavorazioni centrali, piacciono gli intrecci, piacciono i buchetti. E allora ho detto, ma sì, ma sì, abbiamo un sacco di filati che girano per casa, perché non impiegarli? Io stavo guardando anche i calzoni, a dire la verità. Ed ero partita in quarto. Ma sì, facciamo questo, tanto qua faccio l'assemblaggio con i tre ferri. Sì, perché non mi piace la cucitura, da quando ho imparato l'assemblaggio con i tre ferri. Ma quanto mi piace, perché dà stabilità al capo, quindi alle spalle, non avendo altre cuciture. Si riescono a tenere ben vicine le maglie in un punto dove il movimento, quindi la curva della spalla, tende a dilatare le maglie. Quindi ho fatto tutto e poi ho detto, ma no, mamma mia, ma ho anche la cucitura sotto da fare laterale. E allora, non lo so, non mandava più tanto questa cosa, ma anche perché scuriosando, adesso poso qua il giornale e poi vi parlo di quello che c'è sotto, scuriosando per il sito Pursault che mi piace tantissimo. Tutti quei filati io me li sogno la notte, quelle, quelle, quelle lì sono le qualità. Oltre ai filati che devono ancora poter belare, ecco, avere profumo di pecora, di pascoli, mi piacciono a determinate qualità. E quelle proposte dal Pursault, tutte, tutte le vorrei adottare in casa mia, tutte, 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 tutti i colori, tutte. Mi piacciono anche molto le loro proposte, maglia e crochet, le coperte, tutti quegli asciughini che chi li userebbe? Quelli sono talmente belli da guardare che mi avrebbero, non so, ma non dispiace. Però hanno un sacco di belle idee che riguardano le piccole e grandi cose da realizzare per la propria casa. Hanno dei bellissimi golf, mi piace proprio la loro linea, è bello, offrono proprio tante, le caoscette, ci sono anche dei pattern gratuiti, tra l'altro. Andate a scuriosare, poi magari qualcosa vi cercherò. Ho visto un golf che io ancora, e tanto che non vado per Pursault, da quando ho smarito le mie varie passo, tutti quegli impicci tra password, numeri di telefono cambiati, tablet rotto con tutte le password aperte, non posso portare ad aggiustare, non si possono fare tutti i fatti miei e delle persone che hanno comunicato con me. E quindi, ecco perché non frequento più Facebook, le mie due pagine, quindi Lorenza De Simoni e Trame, Trico e Mini Mezzi Marinai, ma potete visitarle, qualcosa è privato, qualcosa è pubblico, per quanto riguarda la galleria delle immagini. Ma ci sono tante cose che potete andare a vedere, scoprire dove stavo, quando stava bene la minuscola, come stava bene la minuscola, le mosse, insomma, tante cose ultime, insomma, di queste ultime manciate di anni. E poi cosa? Ah, la mia mail, oi mamma, proprio un disastro è successo con la rottura di quel tablet, l'ennesimo. E va bene. E avevo acquistato anche dei pattern, che non riesco più a cedere a quei pattern. Come ho detto, quando io dico, la carta, il cartaceo, qualcosa avevo fatto stampare, in verità, ma non tutto. Con questa solfa dalle stampanti che ci portiamo, di trasloco in trasloco, ne arrivano di nuove, perché non sono mai abbastanza nuove, non si capisce mai come farle funzionare. Ora sono così contenta che posso contare sul servizio offerto dalla nostra cartoleria ed edicola giù in paese, perché tu dove stai? Sei fuori paese? No, io sto in paese. Ma non so, c'è questa suddivisione tra una parte e l'altra. L'altra sarebbe quella che porta il nome del paese. Questa da me sarebbe un'altra parte, che compare sulle vecchie mappe di Google. Anche quelle attuali, e portano sino, è un territorio che riguardava, con lo stesso nome, sino a Civita di Bagno Reggio, insomma, piuttosto esteso. Non si capiscono queste cose. Dal 23, da quando è che Mussolini fece tutto quel 48 per far diventare Viterbo, Viterbo provincia invece che Civita vecchia. queste cose che dovrei studiare un po' meglio, me le sono già belle che scurda, che si sa di pitevolezza, ma invece no, 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 è proprio storia. E tutto questo ha creato un sacco di problemi, perché già questa parte era comune e poi non è stato più. Quindi noi ci troviamo parte del comune di Viterbo, quindi siamo frazione di Viterbo, quindi noi saremmo Viterbo anche se distiamo 15 chilometri, se non di più dal centro storico, come altri paesi che hanno le stesse vie e quindi io mi vedo arrivare della posta dove magari non specificano il nome. Poi ci sono dei codici di avviamento postali che riguardano Viterbo, Grotte, Santo Stefano, le varie fazioni, che è una roba strana perché è difficile che la si incontri da altre parti. Quindi mi trovo a volte della posta di persone che abitano a San Martino, San Martino nel Cimino, che è un paesino veramente carino da andare a visitare. Ma poi per gli affacci, per la natura, insomma se vanno ad andare in montagna, poi non è che siamo tanto distanti, poi quei rilievi sono lì a pochi chilometri, in linea d'aria dal mare, è veramente interessante. Il territorio della Tuscia Vitervese è proprio proprio interessante. Allora, sono andata a scuriosare per il sito di Pursot e ho visto un golf che mi piace tantissimo. È un golf che è stato realizzato con un filato molto più ciccione rispetto a quello che abbiamo scelto con Camilla per il suo, ma presenta un motivo centrale. Ora vi faccio vedere. Presenta un motivo centrale, non uguale a quello che abbiamo scelto, ma le maniche sono dei raglan profondi. Quindi abbiamo delle belle manicozze, belle, voluminose, e poi ripropone dopo il polsino lo stesso motivo centrale, fino a un tot, non arriva a occupare la prima metà della manica o l'ultima, dipendendo da dove la guardate. E ho detto, ok, modifichiamo. L'ho modificato in fase d'opera, tra l'altro. Quindi sto facendo un raglan, un do coio coio, poi ripeterò nella parte anteriore, ho cominciato indietro. Il collo non lo so. Adesso metto in sospeso le maglie dietro. Sono arrivata a un'altezza che secondo me va bene. Camilla non ama i golf molto lunghi, non vuole i golf che mettano in risalto la vita stretta accostandosi alla vita. E quindi un po' crop. Vabbè, comunque, poi lo vedrete. E dietro le andà. E sono andata come un fuso proprio, bella veloce. Ma la cosa buffa riguarda questo maglia che da tonta, vedete, qui c'è la fotografia del progetto, a fianco ci sono le spiegazioni che io non vi posso far vedere. E quindi nella pagina a fianco, che non vi posso far vedere, c'è lo schizzo, insomma, diciamo, il disegno con tutte le misure che riguardano il capo, no? L'inizio delle spiegazioni e in alto a sinistra c'è uno schema. Uno schema che per come è fatto, per me corrispondeva, poteva corrispondere benissimo al motivo del golf. Non mi sono mica stata tanto a cervellare. Ah, ok, va bene, lo facciamo. Non ho pensato ad altro. E ho fatto sto schema. Ho seguito lo schema ed è venuto fuori questo motivo che è molto carino. Camilla fa, uh, ganzo. E' bello anche perché poi è un motivo, vedete, che presenta dei buchini, ha queste inclinazioni di losanghe e poi si lavora al dritto e al rovescio non si pensa niente. Quello che si vede si realizza. Quindi, va, proprio una meraviglia. E guardavo, e continuavo a guardare il golf, la fotografia, e dico, ma non mi torna. E' vero che abbiamo questo andamento, no? Vedete che cosa c'ha di diverso dalla... Non vedevo niente di diverso. Poi ho detto, ma sarà il filato? Sono andata a vedere il filato, le caratteristiche del filato ed è molto simile a quello di Tiger, no? C'è uno stoppino riavvolto da un filo molto più sottile e crea un effetto frisè senza esserlo in realtà. Quindi sembra quasi un filato che crea noccioline a guardarlo così. Ho capito, ho detto, va bene che non è proprio lo stesso, ma non è che mi può modificare. Come mai qua tutti questi cosi? Ma cosa ho sbagliato nel leggere? Hanno messo qualcosa nello schema? Già, mi stavo arrabbiando, no? E poi invece ho scoperto che lo schema che ho seguito in realtà è il motivo del progetto precedente che è questo. Carino, per carità, ma vedete come rimane tutto più pulito? Molto più pulito, tra l'altro, del mio andamento. Ecco perché abbiamo scelto anche questo filato per le caratteristiche che ha. È un soffiato che mi girava per casa. Quindi, mannaggia! Vedete come a volte gli schemi se non approfondiamo. Lui ha lo stesso andamento, vedete, da una parte e poi dall'altra e ha i buchini come il motivo centrale del golf. Vedete qua? Abbiamo gli andamenti da una parte e dall'altra però io qua vedevo dei cincischi, dei rilievi ma è possibile che faccia tutto il filato? Invece no! In questo caso il motivo chiede molta attenzione tanto sul dritto quanto sul rovescio perché non c'è una riga uguale all'altra praticamente. Sì, ci sono delle ripetizioni ma sul rovescio bisogna stare attenti perché abbiamo delle ripetizioni di gettati tanto sul dritto quanto sul rovescio e dovremmo operare in un certo modo tanto sul dritto quanto sul rovescio non è la replica di quello che si fa sul davanti il dietro in poche parole non so se mi avete capito Minuccia e il calfresco lei era già all'ombra quindi stamattina l'ho vestita perché c'era freddino ed umido e lei stava bene poi invece qua si è messa ad ansimare nonostante l'ombra e il pavimento fresco dove si trova lei ed è qua per terra è andata via dalla cuccia ed è sulle mattonelle all'ombra qua vicino questa cagnolina lei ha tanto freddo quanto caldo è un problema quindi vedremo qualcosa di personale perché mi piace avere le riviste ho fatto un bel bordo alto ed è d'accordo mi piace ragionare sulla carta stampata perché mi trovo meglio rispetto a guardare fissa uno schermo a dover cliccare costantemente perché poi si spegne e poi si scarica la batteria io porto il giornale prendo il giornale e me lo porto via sono legata a segnali strasegnali e mi piace tanto anche perché poi i pattern che scarico io ho bisogno di stamparmeli perché non ci faccio niente non ci lavoro non mi garba quella cosa lì non mi trovo bene con solo lo schermo e questa mattina abbiamo chiacchierato proprio di quello ecco di questa difficoltà che si ha allora i modelli che troviamo su più maglia tra l'altro sono una selezione degli album di Katia che si possono acquistare o nei negozi che vendono prodotti Katia oppure online sono diversi hanno pagine leggermente più cartonate ogni numero sviluppa un argomento diciamo e questo è stato diciamo anche uno scambio è stata un'opportunità di scambio con un'amica del fare perché dice io preferisco quelle edizioni intere rispetto alla rivista sul giornale perché costano solo un euro in più ma portano più modelli e ha anche ragione io però ho ragionato in questo momento della mia vita ragione in maniera diversa che mi fa comodo la rivista per fortuna ecco se non ci sono allegati sono sfogliabili queste riviste quindi si vaglia mi piace l'acquisto ci sono più capi che non mi piacciono rispetto a quelli che mi garbano non l'acquisto oppure quelli che mi garbano possono essere anche solo due solo uno ma mi piacciono tanto tanto visto quanto costa l'acquisto di un solo pattern ammortizziamo comunque comunque abbiamo un risparmio e questo non vuol dire che io disprezzi chi vende progetti e se li fa pagare se sono fatti bene se sono particolari giustamente li acquisto pure io non è che sto ad aspettare solo la rivista però il piacere di sfogliare io faccio parte di quella generazione lì che aspettavo l'uscita della rivista del cuore era comunque contenta si inalberava quando non c'erano cose proprio belle mi sono arrabbiata tanto quando ho visto peggiorare la proposta grafica la carta e tutto insomma di raccomo che non c'erano non c'erano più quei bel servizi quelle tante pagine da leggere perché sono anche un amante della lettura quindi quello che noi troviamo sul più maglia è proprio una raccolta dei modelli di alcuni modelli che si trovano in numeri diversi c'è un numero che comprende mi pare cinque o quattro progetti dedicati solo a un certo tipo di lana e che sarebbe proprio quel modello uno di questi modelli è quello che mi ha sviata eccolo qua questo questo modello qua si trova in un numero dedicato a questo tipo di lana è una lana naturale vediamo un po' si mi dice come si chiama vediamo un po' infatti è una lana pure organic wool e va bene e sono 4-5 progetti poi ci sono e gli altri fanno parte di collezioni diverse è vero sono degli album che contengono tanti modelli ma sommando il tutto per stagione quindi sono le proposte Katia per l'autunno inverno 2022-2023 sono tante 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 proposte ma considerandoli tutti quindi voglio quello quel modello ed è in quella collezione voglio mi piace quell'altro modello in un'altra collezione arriva ad essere un costo veramente alto Katia propone sul proprio sito anche l'acquisto di alcuni singoli progetti estrapolati da queste pubblicazioni quindi c'è anche quell'opzione volendo se proprio uno si innamora di una collezione se la può anche comprare tutta io devo dire che di questa scelta sono soddisfatta sto notando questa qualità tra l'altro di sintesi nel proporre i progetti sulle riviste più maglia vi invito anzi magari vedo di ricordarmi di allegare sotto i link per andarvi a vedere a vedere è un po' lento per me quel sito il sito Katia è proprio lento non so se dipende dalla mia connessione vedete un po' voi come ve la cavate potete sbirciare che ci sono dei progetti anche interessanti se avete già il più maglia poi potete rendervi conto di quello che dico insomma come vengono scelti che cosa hanno scelto delle singole proposte per bambini qui non abbiamo capi per bambini ovunque vi metto il link del sito e potete visitarvelo e vedere un po' se avete qualche rivenditore Katia nei pressi di casa e così ammortizzare anche le spese di spedizione in qualche modo e eluderle con poche parole acquistandola direttamente in negozio se siete in una grande città magari avrete anche più punti vendita potete fare dare un colpo di telefono verificare la disponibilità e partire in tromba per andarvegli a comprare farne avvisare un negozio che male non ci fa oppure ordinarvi la collezione preferita semplice ciao buon pomeriggio allora adesso mi metto a montare le maglie per il davanti e poi aiuto inizieremo il motivo però sono contenta vi vado a cercare anche il golf di pulso che mi è piaciuto tanto così mi date un po' un vostro parere riguardo alle differenze dei due golf ciao grazie a tutti Grazie a tutti.